Siamo in Via Sani, nello studio di Q Consulenze Finanziari, insieme al titolare Massimo Guerrieri, benvenuto ad Aravere. Buonasera. Partiamo dall'inizio presentando la vostra attività, il vostro lavoro. Intanto, come avete intrapreso, Guerrieri, questa strada e cosa vi differenzia da banche e assicurazioni? Noi siamo uno dei primi studi di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Dal 2004 siamo presenti sul territorio, tre ex bancari che siamo pentiti del vecchio mondo e appena la legge lo ha permesso siamo partiti con questo aiuto che vogliamo fornire ai cittadini riguardante la consulenza finanziaria, sia investimenti che finanziamenti, priva di conflitto di interesse. Quali sono dunque i servizi che offrite ai vostri clienti che sono aziende e privati? Principalmente li aiutiamo a capire e a prendere decisioni sul mondo degli investimenti e nel mondo dei finanziamenti. Quindi entrambi i mondi, cioè dove c'è del danaro, ci permettiamo il lusso di dire la verità. Cosa chiedono oggi principalmente i vostri clienti? Appunto di conoscere la verità sulla propria situazione, in particolare negli investimenti vediamo che c'è parecchia confusione e c'è molta o molto bisogno non solo di fare chiarezza ma di mettere in sicurezza i propri patrimoni. E infatti non è sempre facile approcciarsi al mondo degli investimenti, soprattutto quando dall'economia diciamo arrivano anche talvolta segnali contrastanti. Ci sono momenti in cui si parla di una ripresa seppur timida, altri dati invece parlano di ancora grosse difficoltà. Come orientarsi, guerrieri? Sì, questo è un po' il problema dei nostri tempi, ovvero a fronte di una crisi che è ancora lunga e i deboli segnali di ripresa spesso e volentieri ci lasciano perplessi. Dall'altra parte vediamo come il mondo della finanza in continua evoluzione e con anche una deregolamentazione in atto può in qualsiasi momento affossare l'economia reale. Cioè ci troviamo in un momento storico molto importante dove la finanza per assurdo può comandare sull'economia reale e di conseguenza l'informazione e sapere come i nostri soldi abbiano determinate garanzie di solidità è assolutamente fondamentale. Oggi si parla tanto del sistema bancario, in particolare si nominano alcuni istituti di credito, ecco quali sono gli scenari e soprattutto ne parliamo dal punto di vista dei risparmiatori e dei loro risparmi? Sì, il sistema bancario italiano ma direi europeo con anche qualche critica al mondo oltreoceano sta attraversando un momento di difficoltà che ormai perdura dal 2009, ovvero dal fallimento della Lehman Brothers. Non per ultimo in Italia sappiamo che il governo ha appena varato un decreto che ha stanziato 20 miliardi a favore del sistema bancario, 20 miliardi è quasi una finanziaria, quindi parliamo di somme importanti. Noi vediamo che questa crisi legata al sistema bancario ha necessità di tempo e non sappiamo se il tempo ci sarà, quindi già questa manovra è una manovra che ci dà una boccata d'ossigeno, però già dopo l'estate pensiamo che i problemi si ripercuoteranno sulla nostra fragile economia appunto per questa crisi legata al sistema bancario, in particolar modo sulle sofferenze che pesano come un macigno sulla nostra economia appunto. Romeniamo su questo tema, a questo riguardo cosa è cambiato anche negli anni in merito alle tutele per i risparmiatori, sui rischi legati agli investimenti? Sì, vediamo che proprio anche il legislatore tende a togliere tutela ai risparmiatori, quindi anche questi rischi vengono sempre più messi sulle spalle del cittadino. Prima era il bail out, cioè a carico del contribuente perché in caso di fallimento delle banche pagavano gli stati, oggi si è aggiunto anche il bail in, ovvero in prima battuta pagano i clienti, azionisti, obbligazionisti e correntisti oltre i 100.000 euro. E di conseguenza sembra quasi che il normale risparmiatore sia messo in angolo, cioè a fronte di una grossa crisi bancaria o paga come cliente o paga come contribuente. Paga sempre, ci viene da dire. La storia ci insegna che chi paga sono purtroppo i piccoli. Ecco, però questo fenomeno dei rischi crescenti è una prerogativa soltanto del nostro paese o ci sono situazioni analoghe anche guardando fuori dall'Italia? Un'altra cosa che ci deve far tenere occhi aperti, orecchie dritte, è appunto la situazione internazionale. Noi vediamo che la stessa Germania, che è il motore dell'economia europea, ha una grossa crisi bancaria, anche se politicamente, essendo molto forte la Germania, questo non emerge. Ma abbiamo le banche tedesche, faccio un esempio su tutti, la Deutsche Bank, che ha 15 volte il PIL tedesco, quindi un grosso PIL, in derivati. Derivati qualcuno li ha definiti come armi di distruzione di massa, cioè molto pericolosi. In America Trump ha detto una delle prime cose, quando si è insediato, che continuerà la deregolamentazione sul sistema bancario, quindi lasciando libera Wall Street e andando a togliere sanzioni alle banche. Anche questo la vediamo come un segno dei tempi, cioè continuare a prestare il fianco a mosse speculative che poi non sappiamo dove ci possono portare. In una situazione ancora così complicata, lei prima parlava di un'economia fragile, quindi situazione molto complessa. Possiamo dare qualche consiglio anche ai risparmiatori? Quali sono gli strumenti più diffusi eventualmente da segnalare? Diciamo che noi quello che vediamo oggi è un po' una caccia al rendimento, anziché guardare alla solidità degli investimenti. Quindi chi viene ai nostri uffici come investimenti principalmente sono di due tipologie, fondi comuni e polizze assicurative. Ma principalmente i fondi comuni stanno andando per la maggiore. Ecco, a proposito di fondi comuni, anche qui qualche consiglio. Cosa deve sapere il risparmiatore prima di firmare? Sì, noi consigliamo prima di fare qualsiasi tipo di firma su questi due investimenti, di andare a leggere in particolar modo per il fondo comune il prospetto informativo. Oggi per i fondi comuni c'è una grossa agevolazione per chi ci ascolta, che è il KID. Il KID è un foglio che la banca è tenuta a darlo, ma si trova benissimo su internet, quindi è molto accessibile. E su questo foglio vengono riportati obiettivi di investimento e negli obiettivi c'è anche la specifica se sono presenti o no derivati. Rischiosità da 1 a 7, rendimento passato e spese. Le spese sono molto importanti perché con i rendimenti bassi, come sappiamo e noi oggi siamo in territorio negativo, le spese ovviamente incidono in maniera importante sui rendimenti.